Fidati, è il momento di investire, devi approfittare che l'indice si sta alzando. Lo squalo della finanza è un uomo pericoloso. Manda anche tu un sms con scritto Eh ma anche il medio si sta alzando. Aiuta il povero Salvatore. Noi siamo Anonymous. Signore e signori, benvenuti. Dimmi che sei calda, dimmi che sei calda. Manda anche tu un sms con scritto Filmare da tutte le ore. Fra poco vai in onda. Aiuta il povero Salvatore. Infafattifi.